A Pescara un nuovo temporale ieri pomeriggio ha costretto i bagnanti a fuggire dalla spiaggia alla luce dell'allerta meteo della protezione civile che permane anche oggi. Il forte acquazione di ieri è stato preceduto da un forte vento che ha costretto i bagnanti a lasciare la spiaggia anche su invito dei gestori degli stabilimenti balneari che hanno già ieri ricevuto l'allerta meteo da parte del centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile. L'avviso emesso riguarda una criticità regionale anche per oggi domenica 14 luglio con previsione di allerta arancione per rischio idrogeologico a causa di temporali sui bacini Tordino Vomano, Pescara, Alto Sangro e Basso Sangro. A Pescara il cocco è rimasto aperto anche dopo l'emergenza di mercoledì. Ancora in città psicosi grandine dopo l'eccezionale ondata di maltempo che mercoledì scorso si è abbattuta su Pescara e su gran parte della costa adriatica con una grandinata violentissima che ha provocato danni e feriti in Abruzzo e psicosi da grandine. Numerosi pescaresi si sono adoperati per proteggere le automobili considerato che anche per oggi c'è un'allerta meteo con codice arancione. Come detto lungo le strade sono visibili veicoli protetti da coperte, materassi, cartoni e persino canotti. Le foto dei mezzi stanno facendo il giro del web e sul web ci sono anche immagini scattate nelle stazioni di rifornimento dove in tanti cercano riparo. Il nuovo acquazione su Pescara dopo la violenta grandinata e il lubifragio di tre giorni fa ha creato ieri nuovi disagi alle piscine e le naia di impianto sportivo riaperto nei giorni scorsi dopo una chiusura di quasi due mesi. Le infiltrazioni d'acqua hanno causato nella tarda mattinata di ieri problemi ai trasformatori a un blackout elettrico ed è stato necessario sospendere temporaneamente alle gare dei campionati regionali assoluti di nuoto organizzati dalla Finna Abruzzo. A Pescara il sindaco Carlo Masci spiega che si sta procedendo per risolvere le criticità ma in tutta la regione sia all'interno e soprattutto sulla costa la tensione è massima.